Ve prego, uno schippetto! Ooooooooh! Non so se siete pronti. Ringrazio Romanino per questo screen meraviglioso perfetto. Oggi, 17, numero meraviglioso. Potrebbero esserci degli spoiler importantissimi riguardanti Pokémon Unite. Ne parleremo probabilmente in live. Il problema è che non ne parleremo oggi pomeriggio perché alle 15 ci sarà un evento pazzesco di Brawl Stars e Brawl Tricolore dove io e Maurizio Merluzzo casteremo sul mio canale, ci sarà anche la live programmata attivata al promemoria. Sarà praticamente un torneo con sei team capitanati da Gigi, Ferre, Kazusan, Player D, Dragon Stick e Franci Artist. Hanno preso anche dei pro player, quindi ci sono un sacco di pro player affermati se non erro, Mommi, Soide e Bresa. Vedremo un torneo serio. Giocheranno tra di loro due round robin, poi semifinali e finalissima con in palio le gemme. Riservatevi il pomeriggio, sarà una ficata pazzesca alle 15 sul mio canale. Eventualmente la sera tratteremo anche Pokémon Unite, vedremo, speriamo, in un nuovo gioco che ci possa far godere di più l'estate oltre a Brawl Stars e Clash Royale. Tornando su Brawl Stars, oggi facciamo finalmente il box opening. Voglio anche parlare al volo del bilanciamento. Vi chiedo innanzitutto un like se vi è piaciuto l'aggiornamento, un'iscrizione che ne mancano già solamente 9000 per l'1,40 iscrivetevi a gratis, codice Crax in the Shop che è stata addirittura cambiata la grafica, non so se l'avete visto, è leggermente differente. Se non erro, citando sempre il 17 che è il numero top per me, oggi nello shop dovrebbe esserci gratuitamente la skin di Beryl, quindi loggate per prendere quella skin gratis. Io sto pre-registrando questo video un giorno prima. Talk about bilanciamenti. È successo il panico. Veramente il devasto più totale, hanno modificato tutto. Schippiamo tutto il discorso delle modicon. Anzi, forse una cosa fondamentale, per tutti quelli che hanno shoppato i pass precedenti, preparatevi perché uno di questi giorni ci verrà regalata un emoticon. Non l'emoticon rara clap, perché quella bisognerà trovarla nei pacchetti, saranno 49 altre nuove emoticon rare da trovare, ma la corrispondente clap gold leggendaria ci verrà regalata, verrà regalata a tutti quelli che hanno shoppato il Brawl Pass associato. Quindi, se avete shoppato il Brawl Pass di Gelindo, avrete l'emoticon del clap di Gelindo, gold. Ovviamente di tutte quante le altre. Per quanto riguarda Buzz, quella del clap sarà all'interno del pass, gold. Mentre quella rara bisognerà trovarla nei pacchetti. Quindi, a tutti gli effetti, 48 più una 49, quella che uscirà insieme al Signor Griff. Shopperemo un botto dei pacchetti emoticon, preparatevi, lasciate un like per le cavie. Forse il cambiamento peggiore in assoluto di tutto quanto all'aggiornamento, quello che stravolgerà il competitive e, secondo me, lo renderà molto meno spettacolare. Salvataggi sulla linea, difese tattiche, gemme fregate allo spawn, eccetera. È quello della mancanza dei colpi in rinascita. Molti si stanno lamentando. Magari la Supercell farà un passo indietro. È una cosa che ha peggiorato, per quanto mi riguarda, sicuramente, il gioco. La cappo è rimasta all'interno del game. Hanno modificato qualcosa per quanto riguarda la puzza nella sovravivenza. Un sacco di bilanciamenti. Mi salta subito all'occhio il gadget di Spike. Alzo le mani. Non mi riesco a spiegare come la Supercell abbia droppato un gadget del genere. Spike crea un enorme cactus avente 3500 punti salute. Allo scoppio ricarica la vita di tutti, di mille. Quindi può curare fino a 3000. Non ha un minimo di senso. Spike sarà OP. Hanno fatto un sacco di bilanciamenti top. Bell l'hanno addirittura potenziata. Il problema enorme sono i tank. I tank ricaricano la super mentre vengono colpiti sia dai brawler che dalle torrette che dai pet. Quindi nel primo jumperà da tutte le parti. Sembrerà una cavalletta come il Gran Cavaliere dei Clash Royale. Bull caricherà la ulti. Sarà un Thor avanti e indietro. Frank mazzate su mazzate. E Jackie destrattona con la ulti. Però su Jackie hanno leggermente counterato la cosa diminuendo la star power del filtro dei danni. Giusto. Cosa fondamentale riguardante la Power League. Vi ho sempre detto che il problema di Power League era il plin plin infinito. Un'ora di plin plin la notte. Hanno modificato il matchmaking. Uno stesso team lo potevamo incontrare dopo 72 ore. Quindi dopo tre giorni. Se beccavo Gianni il lunedì lo potevo beccare il giovedì. Mentre adesso Gianni se lo becco il lunedì riesco a ribeccarlo dopo un'ora. Lo stesso Gianni. Ci saranno molte più partite con gli stessi. Qual è il problema? Per noi streamer saremo super facilissimi da snapperare. Tipo in una live beccheremo gli stessi player magari tre volte. Soprattutto se siamo a coppe alte dove gioca meno gente. Però è comunque positivo perché è meglio giocare che non giocare. Questo è poco ma sicuro. Altra cosa pazzesca che riguarda la nuova lega delle stelle. Jackie. La skin quella nuova estiva. Si potrà sbloccare dopo 50 partite. Questo per quanto riguarda il bilanciamento. Ho chiacchierato anche abbastanza. Fatemi sapere cosa ne pensate. Andiamo nel pass. Tra l'altro mi sono dimenticato di farlo la settimana scorsa. Ma è stata una settimana ricca. De sneak peek. Ritorno sul Royale. Torneremo a giocare al Royale. Magari proprio questa sera. In live verso le 20 e 30. Ci prendiamo le gemme. Posso dire che questa è diventata la risorsa più importante del gioco. Quanta roba bisognerà scioppare. Lasciate stare. Casse Brawl. Prima le monete. Eccole qua prese. Ci abbiamo anche la mega cassa nascosta. Partirei con la cassetta Brawl. Saremo fortunati sta botta? Secondo me no. Infatti 42 monete. Niente di incredibile. Il resto sono tutte enormi. Cassette enorme. Gibbaci gli skip. Ne dobbiamo trovare ancora parecchi. Per maxare tutti quanti i Brawl che abbiamo. Poi dovremo anche maxare quelli che abbiamo a livello 8. Con tutti quanti i punti energia. Cassette enorme nascosta. Daglie Crax. Trova me qualcosa di buono. Maxiamoci l'account. Chissà se un giorno metteranno le spille nelle casse. Potrebbe essere interessante ma non lo faranno perché le spille sono un qualcosa che va shoppato. Quindi cash da spendere in game. Schipetto gold. Raddoppi aggettoni. Ok. Sessantacinquesima. Poi carrellata massiccia e anche megacassa in da shop. Megacassa let's go. Raddoppi aggettoni. Lo schifo. Seconda megacassa. Andiamo. Veniamo dallo schippetto de mortis. Quindi non è passato tanto tempo dall'ultimo skip luminoso. Megacassa nascosta. Te prego. Dacci qualcosa di veramente ma veramente top. Mi dissocio. Come 600 raddoppi aggettoni totali. Infine andremo sulla megacassa in da shop. Dato che ci stiamo andiamo a 1100 raddoppi aggettoni. Monetozze per noi. Diciamo che ci facciamo abbastanza poco. Magari ci prenderemo anche le skin dorate perché manca poco per maxare tutto quanto. Almeno ne prendo 13 ma potrei anche andare un po' più lungo. Non so se vi ricordate le ultime 60 casse aperte del pass numero 3. Ci diedero 10 skip luminosi. Quel video è storia. Raddoppi aggettoni 1300. Vai così. Questo mi piace. Altra casse enorme. Aspettiamo l'aprimi. Raddoppi aggettoni. Sì. 1000. Basta. Quanti me ne devi dare? Sapete perché me li dà? Mi dà i raddoppi aggettoni? Perché ultimamente sto giocando di meno al gioco e quindi per spingermi a giocare e utilizzare raddoppi aggettoni, sfruttare raddoppi aggettoni, me li sta droppando tutti. Questa è una lettura perfetta. Ve lo dice Crax che funziona così. Andiamo. Next. Guarda quanti. Non me ne dava neanche uno ai tempi. Non ci posso credere. Siamo a 1700 raddoppi aggettoni. Altra cassa. Non li ho. 166. Next. Baulozzo. Male eh. Sta botta ci sta dicendo un po' di spiega. Neanche uno schippetto. Come caspita è possibile. Ma non esiste. 75 rimanenti. No, io continuo fino a uno schippetto. Vabbè. 177. 72 rimanenti. Ma sono scriptate. Arriva a 60. Almeno facciamo il bis del video precedente. Altri raddoppi aggettoni. Non ne ho mai trovati così tanti in vita mia. 68. Lo schifo. 67. Lo schifo. 66. Ve prego uno schippetto. Oh. E daglielo. Finalmente l'abbiamo trovato. Dacci qualcosa di bueno da utilizzare in Power League. Me docca max a instant il primo. Perché è diventato il bro il più forte del gioco. Semino. Yes. L'abbiamo maxato poco fa. Instant star P. Sono veri contento. Ultime cinque. Dammi sti raddoppi aggettoni a sto punto. Dove sono? Neanche quelli. 63. 122. Eccoli ragazzi. Yes. Altri 200. Mai così tanti raddoppi aggettoni in un box opening da quando c'è stanno i pass. 60 rimanenti faremo il bis del video di due mesi fa. Vado nel negozio e concludiamo. Ho 2180 raddoppi aggettoni. Assurdo. Potrei anche shopparmi 3500 raddoppi aggettoni. Non sarebbe male. Scherzo. Ne ho abbastanza. Last mega cassa. Like. Iscrizione. Campanella. Codice Grax. Per tutto l'aggiornamento. Quello che volete. Su tutti i giochi. Supercell store. Eccetera. Speravo nei raddoppi aggettoni. Ragazzi. Grazie mille per il supporto. Guardate che spettacolo il nuovo codice gradore. Speriamo lo modifichino anche su Clash of Clans. Perché su Clash of Clans fa davvero schifo. Ve voglio bene. Se beccamo oggi alle 15 sul mio canale per il Brawl Tricolore. Sarà una levetta di massimo 3 ore. Fino alle 18. Ci divertiamo. Tanto è caldo di fuori. E poi stasera alle 20 e 30. Altra live penso di Clash Royale. Parleremo di Pokémon Unite. Ciao belli. Ciao ciao.